La seconda gara della giornata, arbitra sempre il signor Mammarella e balle a ventino Virtus Lanciano. E' uscito il Lanciano al solteggio, fanno i loro ingressi in campo per la seconda gara della giornata. Categoria giovanissimi per il terzo Memorial, Massimo Scalinci, Virtus Lanciano, balle a ventino. Si schierano i giocatori Ambo. Per iniziare la seconda partita, la prima giornata, tra la Valle del Giovinco e la Virtus Lanciano. Vanno a salutare le panchine. Valle dell'Aventino, scusate. Valle a ventino. Valle a ventino. Per la seconda gara della giornata. La Valle a ventino con la divisa bianco-verde, mentre la Virtus Lanciano con la classica divisa rosso-nera. Ecco la postazione di pronto soccorso. La c'è il mister dei giovanissimi. Che lo spettacolo abbia inizio.